Fiorenza Pistocchi, buongiorno. Buongiorno Livio, buona giornata. Benvenuta, anzi bentornata qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole, questa volta per incontrare una storia di resistenza con la R maiuscola nel nuovo libro di Fiorenza Pistocchi, come sempre pubblicato dalla casa editrice Neos, il libro si intitola Il Coraggio è una cosa semplice, dove la parola semplice è una parola molto complessa invece, perché? Perché bisogna entrare dentro questa parola, il coraggio che qualcuno potrebbe dire la madre di tutte le altre virtù, ma adesso poco per volta entriamo senza troppo entrare, come sempre facciamo qui nel Posto delle Parole, dentro le storie. Ricordo che Fiorenza Pistocchi è nata a Savona e questo libro respira dell'aria di mare del Savonese e ha pubblicato diversi libri da Neos Edizioni. Adesso si è cimentata, si cimenta Fiorenza Pistocchi con questo appuntamento dedicato alla storia, perché questo è un libro profondamente imbevuto nella storia vicino a noi. Siamo negli anni della resistenza e siamo in Liguria, esattamente a Savona, ed è la storia di alcune persone che si mettono insieme con un ideale molto, molto difficile da realizzare, ma un ideale necessario. Ed è qui che incontriamo la parola semplice, una parola complessa. Da cosa nasce Fiorenza Pistocchi? La necessità, perché penso che sia stata una necessità nel raccontare queste giovani vite della resistenza di Savona e dintorni. Sì, è necessario prima di tutto fare memoria di queste persone che pur giovanissime, pur essendo nate quando il regime fascista era già consolidato, hanno trovato davvero il coraggio di compiere delle azioni che erano difficili da compiere. Sì, perché anche se nel titolo c'è la parola semplice, si sono trovati nella necessità di dover far fronte a delle cose, a dei fatti che non potevano tollerare. Questo li ha spinti a cercare dentro di sé il coraggio per poter compiere quelle azioni che non erano semplicissime davvero. Eh sì, non erano per niente semplici, però se queste azioni non erano per niente semplici il coraggio, almeno, almeno il coraggio doveva essere una cosa semplice, perché era composto di che cosa il coraggio in quel caso, Fiorenza Pistocchi? Ma il coraggio è fatto dall'opposizione al regime, in particolare, siccome racconto un po' romanzando la storia dei miei genitori, che erano nell'informazione durante la resistenza. Mio padre era in una ditta che era stata presa dalla TOD, questa organizzazione tedesca che faceva lavorare gli italiani per loro dopo l'8 settembre. Quindi poteva sembrare un collaborazionista agli occhi degli altri e invece sotto sotto faceva delle cose che servivano a informare i partigiani dei movimenti dei tedeschi, delle loro intenzioni e quindi contribuiva a intanto a non farli incontrare, a non farli incappare nei rastrellamenti dei tedeschi prima di tutto, ma comunque anche a fare delle azioni di sabotaggio per ostacolare questa vicenda, il fatto che i tedeschi fossero così i padroni dell'Italia. I padroni dell'Italia, ma non i padroni del coraggio di queste persone. Ci racconta la copertina del suo libro. Sì, nella copertina c'è una veduta del porto di Savona con la piccola torretta, la torre che è un po' il simbolo della città. C'è il fumo dei bombardamenti perché Savona è stata molto bombardata durante quel periodo perché è appunto piena di fabbriche e di lì passava anche la ferrovia. Quindi era un posto che ha avuto tanto, ha sofferto tanto e sono morte tante persone nei bombardamenti. Poi c'è un gruppo di partigiani e in primo piano una coppia. Questa coppia rappresenta, una coppia di giovani, un uomo o una donna, rappresenta un po' tutti quei giovani, tutti quegli uomini e donne che hanno resistito e che quindi o in maniera diretta o in maniera più nascosta si sono posti al regime e hanno favorito la liberazione dell'Italia. Savona si è liberata da sola prima che arrivassero gli alleati tra il 24 aprile e il 25 aprile del 1945. Quindi questa copertina rispecchia quasi come fosse quel giorno, ecco, il giorno in cui questi giovani sono riusciti a uscire allo scoperto e a manifestare finalmente per la riconquistata libertà. Tra l'altro bisogna ricordare anche un elemento importante perché molti, molti operai, forse anche 3.000 o di più, vennero deportati a Mauthausen perché scelti tra gli organizzatori di alcuni scioperi. Mi ritrovavo proprio ieri a Finale Ligure e siccome ho la passione della lettura delle lapidi, io credo che sia un gesto civile. Quando incontriamo una lapide semplicemente stare lì a leggerla ed è già una testimonianza. E questa lapide messa in un giardino ricordava lo sciopero del primo marzo del 1944, esattamente 80 anni fa, con alcuni operai di Finale Ligure, tra i quali insieme con molti altri, deportati proprio perché avevano partecipato a questo sciopero. E anche lì è una dimostrazione di un coraggio. Sì, è stato veramente un evento molto importante quello sciopero che ha coinvolto la Liguria, il Piemonte e la Lombardia perché in tutte le fabbriche, tra Torino e dintorni, Milano e Genova, Savona. C'è stato uno sciopero veramente importante che però è stato represso con grandissima crudeltà. Come diceva lei, tantissimi operai, tanti operai dalla Liguria sono stati deportati e sono finiti a Mauthausen o Dachau o Birkenau. A Savona in particolare sono stati 67 quelli che sono finiti nei campi di sterminio e di concentramento e sono tornati solo in sette. Quindi è stato veramente un atto di grande coraggio quello di partecipare allo sciopero. Naturalmente sono andati incontro alle conseguenze. Qui si trova il coraggio, cioè anche quello di affrontare poi un destino che praticamente per moltissimi di questi uomini era segnato ormai. Se da una parte, Cerenza Pistocchi, lei racconta il coraggio dicendo che è una cosa semplice, che non è semplicemente un titolo ma è la narrazione pagina dopo pagina di quello che succede, ci vuole anche il coraggio da parte di noi ad avere la curiosità e il coraggio di accompagnare queste storie, proprio come diceva lei poco fa, per la necessità della testimonianza. Alcune sere fa ho assistito a un'intervista in televisione nella trasmissione Il Cavallo della Torre curata dal giornalista Marco Damilano e l'aveva come ospite, in occasione della giornata della memoria, aveva come ospite l'archistar Libeskin che realizzò il museo a Berlino, il museo della Shoah. E parlando della parola testimonianza, mi è venuta in mente leggendo il suo libro, Cerenza Pistocchi, parlando della parola testimonianza, Libeskin che cosa dice? La testimonianza è un compito e quindi il compito si deve svolgere e questo compito non è mai finito. anche per lei è stato così. Sì, anche per me. Io ho cominciato a parlare della storia quando ho scritto un romanzo sulle ragazzine che durante la prima guerra mondiale raccoglievano la lavanda al colle di nave e quindi ho parlato dello sfruttamento del lavoro manuale femminile e infantile, diciamo, di questo tema. Poi sono passata a raccontare, in particolare sulla Shoah, quello che è accaduto a Pioltello, che era la cittadina dove risiedo, che era una stazioncina di ferroviaria dalla quale passavano i treni che uscivano dal binario 21. E adesso, davvero, progredendo nella storia, ho sentito la necessità di raccontare questo periodo. Chiaramente il riferimento era quello di Savona perché i miei genitori, Savonesi, mi hanno sempre raccontato, fin da quando ero bambina, gli episodi della loro resistenza. E a un certo punto mi sono sentita in dovere. L'ho sentito come un compito, come qualcosa che io dovevo a loro, di raccontare la loro storia, nella speranza che ci siano dei lettori che sappiano raccogliere questo messaggio di memoria. So che non è semplice, ma la sento davvero come un compito da svolgere, come ha detto lei. Non tutti possiamo essere eroi, dice a un certo punto uno dei protagonisti, Giorgio. Ma questo è vero, non tutti possiamo essere eroi, ma ognuno in questo romanzo porta la sua testimonianza e il suo coraggio, piccolo o grande che sia, non importa. Perché la resistenza aveva bisogno di tutti. E questo libro, a proposito della resistenza, ha il patrocinio dell'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, ovvero Ampi, il Comitato Provinciale di Savona. Sì, sono molto orgogliosa di questo perché io ho fatto leggere in bozza la mia opera al presidente dell'Ampi di Savona che l'ha trovata interessante e corretta. Io ci tenevo ad avere questo avallo perché quando si parla di quel periodo ci sono sempre molti rischi, molti rischi di non dire tutto, di non dirlo bene, di non spiegare, di non farsi capire. Quindi questo patrocinio mi ha resa molto orgogliosa e contenta. Quindi quando lo presenterò a Savona sarò particolarmente emozionata. Certo perché va esattamente nella terra che vive di queste storie, ha vissuto il coraggio in forme molto, molto plurali di tanta, tanta dedizione, attenzione al destino dell'Italia. Per dirla in maniera... Prego. Sì, no, volevo dire anche che proprio la mia idea anche era quella di poter rendere in questo romanzo anche onore ai piccoli gesti, proprio come si diceva prima, perché ci sono persone che hanno semplicemente letto un volantino oppure lo hanno passato a qualcuno che non l'aveva ancora visto, oppure hanno nascosto dei partigiani, oppure hanno fatto insomma delle cose che possono sembrare di piccola entità, ma che in quel momento erano rischiose, molto rischiose. Quindi è un mio modo per contribuire a ricordare che il coraggio può essere fatto davvero da piccoli gesti. Il coraggio è una cosa semplice, il titolo di questo romanzo storico che parte da una testimonianza, da una storia vera per poi inanellare anche la giusta finzione, perché il romanzo storico ha questo di particolare e credo che sia anche un modo di entrare nella storia non da una porta di servizio, ma da una porta importante, cioè quella del romanzo storico come questo, il coraggio, è una cosa semplice, pubblicato da Neos edizioni e scritto da Fiorenza Pistocchi, ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma in questi giorni sto leggendo Ogni cosa è illuminata di Safran Foer, giusto perché sono sempre su tematiche interessanti, da questo è stato tratto anche un film bellissimo. Devo dire che la lettura non è per nulla semplice, perché il libro è molto diverso dal film e va davvero interpretato, è letto con rispetto e con pazienza, però come vede le tematiche che mi interessano sono quelle e il romanzo, romanzare la storia è un modo per renderla più accessibile a tutti e per renderla anche una lettura piacevole, perché poi si possono anche raccontare delle cose importanti in modo leggero, senza angosciare il lettore, però insomma bisogna pure farlo, ecco. Bisogna pure farlo, bisogna raccontarle perché se non la racconti la storia, la storia prende un'altra piega. Grazie davvero Caranza Pistocchi e buona giornata. Grazie Livio Partiti, grazie a tutti.